eccoci ragazzi bentornati sul mio canale buon fine settimana buona domenica video veramente molto gustoso visto che vi piace proprio vi frizzica la voglia questo iOS 18 che come sapete sarà finalmente presentato in occasione della WWDC 2024 10 giugno ore 19 mi raccomando seguiremo tutti quanti gli approfondimenti e via dicendo vi ricordo prima di iniziare anche questo video un bel mi piace per supportare il canale iscrivetevi mi raccomando se siete nuovi e poi salvatevi tutti i link in descrizione la mia collaborazione con Eneba troverete videogiochi nuovi videogiochi del passato gift card abbonamenti per xbox per playstation tantissime cose anche per pc e poi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi sul mio canale delle offerte di telegram troverete una marea di sconti giornalieri e soprattutto anche se non trovate il prodotto che state cercando cliccando uno dei link che vi servirà Amazon con la mia affiliazione e anche in quel modo cercando un prodotto e aggiungendolo nel carello mi arriverà un supporto da parte di Amazon grazie a tutti quanti voi ma dato che vi ho detto che vi piace molto questo iOS 18 ho bene diverse notizie molto interessanti che ha riportato Mark Hulman e poi Apple Insider in merito a quello che sta per accadere partiamo con la mia scaletta immancabile prima notizia interessantissima sembrerebbe che stiano praticamente rivisitando una delle cose che sicuramente ci ha fatto sempre storcere la bocca agli ultimi anni le impostazioni infatti iOS 18 e Mac OS 18 dovrebbero includere importanti aggiornamenti proprio al sia allo spotlight che alle impostazioni per avere un'interfaccia come dice Mark Hulman di Bloomberg e un layout più definito più preciso più chiaro per poter navigare all'interno di questa impostazione proprio scusate il gioco di parole quindi grossa novità è in vista per quanto riguarda iOS 18 e Mac OS 18 altra cosa che ha riportato sempre Gourman che ci sarà un grosso aggiornamento e direi finalmente anche al centro di controllo giusto così per rinfrescarvi la memoria se ben vi ricordate il centro di controllo doveva essere cambiato sia con OS 15 che con iOS 17 cosa che non è successa dato che Mark Hulman è molto affidabile in merito a queste cose rispetto a tanti altri leaks e quant'altro se dice che il centro di controllo sarà rivisitato in occasione di iOS 18 secondo me bisogna crederli però non c'è stato nessun chiarimento non ha voluto dare nessuna specifica in merito a questa cosa terza novità interessante che ci ha riportato sempre Mark Hulman di Bloomberg è che vedremo una revisione dell'intelligenza artificiale di Siri per iOS 18 molto importante infatti secondo le sue fonti le funzioni più avanzate di Siri con l'intelligenza artificiale non le vedremo subito adesso a settembre con il rilascio di iOS 18 ma le vedremo più avanti quindi probabilmente nel 2025 cosa ha detto appunto diciamo l'insider ha dichiarato che Siri vediamo un attimo sarà in grado di fare cose come aprire documenti spostare note da una cartella all'altra eliminare un email riassumere un articolo inviare un link web via email e addirittura aprire anche siti di notizie quindi sembrerebbe che Siri sarà veramente tanto tanto avanzato con questa implementazione dell'intelligenza artificiale l'unica cosa ovviamente specifica Gourman è che molte delle funzioni più avanzate le vedremo in occasione appunto del 2025 però non ha specificato quali tra tutte queste che sono state riportate vi ricordo che Apple ha lavorato con un accordo con OpenAI per integrare la tecnologia chat GPT di OpenAI in iOS 18 e sembrerebbe anche ci siano trattati invece con Google per l'integrazione di Gemini ma molto probabilmente la funzione di Siri dice Gourman si baserà sul lavoro di Apple staremo a vedere chiudiamo invece con maggiori dettagli sulle funzioni dell'intelligenza artificiale che sarà poi il fulcro di questo iOS 18 secondo una sorta di scaletta di recap generale che ha fatto il sito Apple Insider sulle funzioni più attese di intelligenza artificiale di iOS 18 ecco questo importante recappone che ha voluto fare il sito ha dichiarato che avremo risposte migliorate quindi funzionalità di generazione delle risposte aggiornate con una risposta intelligente voci migliorate controlli multimediali e addirittura la possibilità di recuperare le notifiche recenti tramite appunto le impostazioni e poi proprio tramite Siri come già vi ho detto le risposte intelligenti per quanto riguarda risposta di mail o ad esempio a messaggio addirittura risposte di testo che si generano automaticamente trascrizione e riepilogo quindi proprio per dettare dei testi tramite l'Apple Note oppure modificare l'audio all'interno delle app trascrivere degli audio addirittura semplicemente riassumere un testo note matematiche predizioni matematiche dalla tastiera quindi miglioramenti per quanto faremo l'input per espressioni matematiche e via dicendo rimuovere oggetti dalle foto utilizzando l'intelligenza artificiale quindi una sorta di miglioramento photoshoposo vogliamo definirlo così per quanto riguarda le foto con l'intelligenza artificiale ed inoltre alcune applicazioni che utilizzeranno l'intelligenza artificiale permetteranno addirittura di creare e modificare delle immagini per le estensioni di iMessage infatti anche iMessage dovremmo vedere interessanti novità vi ricordo che anche la funzionalità messaggi avete visto che introdurrà diverse funzionalità tra cui quella con l'RCS al momento queste sono le altre chicche più interessanti che volevo riportarvi oggi sul canale per quanto riguarda iOS 18 ho detto che c'è veramente tantissima ciccetta sul fuoco rimanete sintonizzati perché ho detto nei prossimi giorni arriveranno altre belle bombe di quelle pesanti molto importanti sul nuovo sistema operativo appunto diciamo mobile poi comunque faremo anche approfondimenti su Mac OS 15 parliamo anche del nuovo sistema operativo per quanto riguarda l'aggiornamento dell'iPad vedremo se l'iPad gli era data una spinta importante a livello lavorativo e se cercheranno di colmare il gap che ancora c'è per quanto riguarda l'iPad per portarlo non diciamo un vero e proprio MacBook classico o almeno avere un'interfaccia che sia e permetta di avere molte più dinamiche lavorative organizzative e di produttività sul tablet di mamma Apple staremo a vedere e torneremo sull'argomento con tantissimi aggiornamenti mi raccomando voi supportatemi lasciando un bel mi piace iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e preparatevi per tanti nuovi approfondimenti nei prossimi giorni